Trovare un'alternativa al gas russo è stata una delle prime conseguenze sull'Europa dell'invasione russa dell'Ucraina. Il viaggio alla ricerca di nuovi fornitori è iniziato subito. Il 25 marzo, poco più di un mese dopo lo scoppio della guerra, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha firmato un accordo con il Presidente americano Joe Biden per aumentare la fornitura di gas naturale liquefatto all'Unione Europea. Sarà incrementata di 15 miliardi di metri cubi all'anno. Nulla se paragonato all'accordo col Qatar, che punta ad aumentare da 77 a 126 milioni di tonnellate anno la produzione della più grande piattaforma offshore del mondo, la Northfield East, situata nel Golfo Persico e in collaborazione con compagnie europee, tra cui Eni. Un altro memorandum è stato firmato il 15 giugno con Israele ed Egitto. Top secret la quantità di gas israeliano importato approderà prima in Egitto per essere liquefatto e poi imbarcato verso i mercati europei. Di queste ore è il viaggio a Bacu della Presidente della Commissione Europea per raddoppiare l'import attraverso il gasdotto che approda in Puglia fino a raggiungere 20 miliardi di metri cubi all'anno. A nord le speranze arrivano dal fronte norvegese. Varsavia ha firmato un accordo con Oslo. Altri capitali si sono mosse in autonomia. Roma, ad esempio, ha firmato accordi tra gli altri col Congo e l'Angola questo lunedì con l'Algeria, Sofia con l'Azerbaijan.